Ho accettato questa verifica per la quale ringrazio della fiducia, non sussiste nessuna condizione per aprire un ragionamento che permetta di uscire nell'immediato da questa situazione di crisi, quindi ho verificato se esistono le condizioni prima all'interno della maggioranza e successivamente per aprire ad un eventuale possibile, probabile, ipotetico definito come l'allargamento alla maggioranza. Quindi dal mio punto di vista non ci sono le condizioni per fare nessun ragionamento di nessun tipo, ora credo che gli organi del movimento gruppo compreso dovranno tornare a riunirsi per fare delle qualitazioni. Io non starei sui formalismi perché l'incarico ufficiale me lo dovrà dare il movimento, io stamattina ho detto che prima di accettare un incarico ufficiale che è il coso, ho fatto una verifica di sostanza se sulla mia figura ci potesse essere una convergenza per immaginare un percorso di dialogo, di confronto, di programmi, non c'è una chiusura totale a qualunque ragionamento quindi credo che non abbiamo fatto nessun passo avanti di nessuna natura, di questo dobbiamo prenderne atto e ripeto, la nostra forza politica, il nostro gruppo tornerà a riunirsi per delle ulteriori valutazioni. Grazie. Grazie.